Gian, la prima volta per tutti qua, cosa puoi dire del circuito? Sembra difficile, molto difficile, devo vedere come va, siamo tutti nella stessa situazione, comunque vediamo. Diciamo che i tuoi colleghi hanno detto anche in conferenza stampa che tra la temperatura alta e il management dell'energia dovrebbero essere i due temi più complicati, sei d'accordo? Sì, dovrebbe essere molto complicato per la temperatura della batteria, però come ho detto sarà lo stesso per tutti. Ciao, grazie.